Gli ambientalisti norvegesi perdono la loro battaglia per il petrolio. Respinta dalla giustizia del paese scandinavo, la loro richiesta di annullare una serie di nuove licenze per la trivellazione nel mare di Barents. Riunita in sessione plenaria, la Corte Suprema Norvegese ha respinto il procedimento intentato nel 2016 da Greenpeace e da altre associazioni contro il Ministero del Petrolio e dell'Energia. Nell'appello da loro presentato, lo accusavano di aver violato i principi della tutela ambientale sanciti nella Costituzione. Alla soddisfazione espressa dal governo norvegese, le associazioni ambientalisti replicano parlando di danni incalcolabili per il futuro. Fa davvero male al cuore, non perché abbiamo perso, ma per le conseguenze che ci troveremo a pagare. Questa sentenza stabilisce in sostanza che i politici possono privarci di un ambiente vivibile, dice il responsabile dell'organizzazione Nature & Youth, di fatto ricalcando la posizione espressa su Twitter da Greenpeace. In base a un recente sondaggio, la maggioranza della popolazione norvegese sostiene che si debba porre fine allo sfruttamento petrolifero del mare artico per ragioni ambientali.